Ciao ragazzi, qui Marco Agustoni di IllustratorStartup.com. Nel video di oggi vi mostro come digitalizzare o vettorializzare un cartoon partendo da un disegno su carta. Partiremo quindi da uno sketch su carta. Lo importeremo in Illustrator e inizieremo a tracciare i contorni della figura attraverso gli strumenti matita e penna. Convertiremo poi l'intero disegno in un gruppo di pittura dinamica per poter applicare il colore e in ultima battuta andremo ad aggiungere le varie ombre e sfumature. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.